Il cambiamento climatico e la crisi ecologica ormai bussa le porte anche nelle nostre città. Quello che dobbiamo fare è una nuova agenda politica basata principalmente su tre concetti. Urgenza, coerenza ed equità. Mettere insieme una politica che vada a favore dell'ambiente, ma anche rispettare i criteri di equità e ridurre le disuguaglianze in questa città è fondamentale. È l'unico modo con cui potremmo raggiungere una riduzione delle emissioni e al contempo poter garantire servizi a tutti. Questo significa ripensare tutto anche a livello di città. La lotta contro i cambiamenti climatici è la più grande sfida che stiamo affrontando nel nostro tempo. Quello che possiamo fare a livello comunale è di entrare in questa sfida globale dando un segnale importante sia dal punto di vista simbolico, chiaramente con la dichiarazione di emergenza climatica, ma anche concreto. La giustizia climatica ha senso soltanto se è accompagnata da quella sociale e soltanto così possiamo rispondere alle richieste della piazza. Nella settimana di azione globale contro il cambiamento climatico una città in comune vuole lanciare le sue proposte per passare dalle parole ai fatti. Anche nella nostra città abbiamo il dovere di ridurre le emissioni entro il 2030 del 50%. Questo lo facciamo rivoluzionando tutto. In particolar modo l'amministrazione ha la possibilità di agire sulla mobilità, mobilità che deve essere sempre più pubblica ed elettrica. Alcune nostre proposte riguardano ad esempio l'utilizzo massiccio del car sharing elettrico in modo da permettere a tutti di poter transitare nelle aree della città che saranno proibite sempre di più alle auto a combustibili fossili senza però per questo dover emettere CO2. Insieme a questo chiaramente un gioco fondamentale dovrà giocare il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile. Investimenti importanti sulle mobilità ciclabili e sul trasporto su ferro dovranno caratterizzare i prossimi anni altrimenti non riusciremo mai a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati.